Comincia una nuova era per il sociale in Abruzzo. Questa la dichiarazione a caldo dell'assessore alle politiche sociali della regione Abruzzo, Marinella Sclocco, in merito all'approvazione da parte della quinta commissione consigliare del piano sociale regionale 2016-2018 e della nuova zonizzazione degli ambiti sociali. Il piano, si legge in una nota dell'ente, contiene importanti novità che consentono alla regione Abruzzo di superare circa 15 anni di ritardo con le altre regioni, mentre i nuovi ambiti sono finalmente coincidenti con i distretti sociali, permettendo di realizzare l'integrazione sociosanitaria. Il piano, ha spiegato l'assessore, prevede circa 200 milioni di risorse nel triennio di applicazione fra fondi regionali, nazionali e europei, incrementando rispetto al precedente piano la dotazione complessiva. Grazie all'integrazione sociosanitaria viene rafforzato il ruolo dei comuni, che insieme alle aziende ASL dovranno programmare nuovi piani distrettuali sociali. In questo modo i cittadini avranno un unico punto di accesso e di erogazione dei servizi, semplificando l'attuale sistema. Il piano, si legge ancora nella nota, è frutto di grande partecipazione degli abruzzesi ed è stato scritto recependo anche oltre 600 contributi pervenuti. Ringrazio tutti i comuni che oggi sono intervenuti in commissione, ha concluso l'assessore Sclocco, per aver sottolineato il fatto che si tratta di un ottimo piano. Ringrazio anche i componenti della commissione che, con alcuni emendamenti, hanno consentito di chiarire alcuni aspetti del piano.